Massimo Bitonci, questo fine settimana che cosa farete? Grande manifestazione, gazebo, sabato e domenica raccoglieremo le firme a sostegno del referendum per l'indipendenza del Veneto. Penso che sia un'importante iniziativa che ha voluto fare la Liga Veneta in collaborazione con la Lega Nord, quindi anche a livello federale. Ci saranno più di 400 gazebo in tutto quanto il Veneto e quindi chiediamo a tutti di venire a firmare per l'autodeterminazione del nostro popolo che ha lingua, cultura e tradizione propria. Un momento importante, non lasciamolo così passare, venite tutti quanti a firmare i nostri gazebo.